Vi siete mai chiesti come sarebbe tornare a casa e trovare un robot umanoide pronto ad accogliervi, aiutarvi con le faccende domestiche e perfino farvi compagnia? Ecco dove ci sta portando la tecnologia, verso un futuro in cui i robot umanoidi potrebbero diventare parte integrante della nostra quotidianità. In questo video parleremo di come la robotica si è evoluta, delle sfide ancora da superare, delle implicazioni etiche e, soprattutto, di quali robot sono già in circolazione o in fase di sviluppo. Dalla fantascienza alla realtà Per decenni, l'idea di convivere con un robot umanoide è stata materia di libri e film di fantascienza. Ma oggi, grazie ai progressi dell'ingegneria e dell'intelligenza artificiale, stiamo facendo passi da gigante verso la realizzazione di macchine capaci di muoversi, interagire e, in qualche modo, comprendere il mondo che le circonda. La nostra giornata è già costellata di dispositivi intelligenti, smartphone, assistenti vocali e apparecchi connessi in rete. Tuttavia, la vera svolta arriva quando l'IA incontra una forma che ricorda quella umana, gambe e, a volte, perfino un volto in grado di esprimere emozioni basilari. Perché proprio la forma umanoide? Semplice. Le nostre case, uffici e città sono progettate a misura d'uomo, quindi un robot con proporzioni simili alle nostre può interagire in modo più naturale con l'ambiente. Esempi di robot già esistenti Prima di addentrarci nel futuro prossimo, facciamo qualche esempio di robot umanoidi e semi-umanoidi già noti al grande pubblico. Asimo. Onda. Uno dei primi robot umanoidi a farsi notare dai media. È in grado di camminare su due gambe, salire e scendere scale, correre a velocità moderate e perfino riconoscere gesti e comandi vocali. Pepper. Softbank Robotics. Un robot pensato per interagire con le persone in contesti sociali, come negozi o reception. Ha una testa con uno schermo per mostrare espressioni e può riconoscere e rispondere a semplici segnali emotivi. Atlas. Boston Dynamics. Conosciuto per le sue incredibili abilità di equilibrio e mobilità. Può saltare, fare capriole, eseguire salti mortali e muoversi su terreni difficili. È più orientato alla ricerca che all'uso domestico, ma dimostra quanto si possa progredire nel controllo motorio. Sophia. Anson Robotics. Famosa per la sua capacità di conversazione e per un volto che imita alcune espressioni umane. Ha fatto discutere per i progressi nell'IA e per l'aspetto umanoide molto realistico, sollevando interrogativi etici sulla convivenza con androidi dalle sembianze così simili alle nostre. Now. Softbank Robotics. Un robot di dimensioni ridotte, progettato per l'istruzione e la ricerca. È molto usato in ambito accademico per insegnare ai ragazzi i principi di programmazione e di intelligenza artificiale. Tesla Bot. Optimus. Annunciato da Elon Musk come un progetto in grado di sfruttare la tecnologia e l'esperienza acquisita nel settore dell'autopilot. L'idea è quella di creare un robot umanoide in grado di svolgere compiti ripetitivi o potenzialmente pericolosi per l'uomo. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, la visione di Tesla punta a un futuro in cui i robot Optimus possano assistere gli esseri umani sia nelle fabbriche sia nelle case. Questi esempi ci mostrano che la corsa allo sviluppo di robot umanoidi non è fantascienza, ma una realtà in continua evoluzione. Con ogni nuovo prototipo, l'asticella si alza sempre di più. Come saranno i robot nelle nostre case? La domanda successiva è Come potrebbe cambiare la nostra vita quotidiana quando questi robot diventeranno accessibili al grande pubblico? Assistenza domestica Un robot umanoide potrebbe svolgere diverse mansioni casalinghe, passare l'aspirapolvere, caricare la lavastoviglie, stendere il bucato o persino cucinare pasti semplici. Supporto emotivo e compagnia Molti di questi robot vengono progettati anche con l'idea di fornire un minimo di interazione sociale. Potrebbero ricordarci appuntamenti, conversare con noi in modo basilare o mostrare semplici emozioni per risultare più empatici. Assistenza a persone fragili Per gli anziani, i disabili o chi vive da solo, avere un robot potrebbe significare ricevere aiuto immediato in caso di necessità, come chiamare soccorsi o somministrare farmaci. Intrattenimento Un robot potrebbe mettere musica, ballare, raccontare storie ai bambini e, perché no, gestire sistemi di realtà virtuale e aumentata. Certo, non possiamo aspettarci che facciano tutto alla perfezione fin da subito. Ci vorranno anni di sviluppo per rendere i robot abbastanza autonomi e sicuri da affrontare la complessità delle nostre case. Ma la direzione è tracciata. Le sfide ancora da superare. Non mancano però gli ostacoli. Creare un robot che cammini su due gambe, riconosca oggetti e persone e che sappia usare strumenti pensati per mani e braccia umane, non è affatto banale. Vediamo alcune delle principali sfide. Locomozione e stabilità Camminare in maniera sicura su due gambe implica algoritmi sofisticati per mantenere l'equilibrio. Basta un tappeto sollevato o un gradino per mettere alla prova persino i robot più avanzati. Autonomia energetica Le batterie attuali non permettono a un robot di muoversi e funzionare per lunghi periodi senza ricarica. L'obiettivo è avere robot che possano operare per ore, se non per un'intera giornata. Interazione e comprensione del linguaggio Anche se l'IA ha compiuto passi da gigante, comprendere il linguaggio naturale resta complesso. Interpretare il sarcasmo, le metafore e i contesti culturali è ancora un enorme ostacolo per le macchine. Costo e accessibilità Un robot umanoide sofisticato richiede componenti avanzati, sensori di qualità, materiali resistenti e batterie potenti. Il costo di produzione è ancora molto elevato. Solo col tempo e con una produzione su larga scala, i prezzi potrebbero calare. Implicazioni etiche e sociali Proiettandoci in un futuro in cui i robot umanoidi saranno sempre più comuni, ci sono alcune questioni delicate da affrontare. Impatto sul lavoro Se un robot può occuparsi delle mansioni domestiche e perfino di alcuni lavori di assistenza, che accadrà alle persone che attualmente svolgono questi compiti. Da un lato, potrebbero emergere nuove professioni legate alla progettazione, manutenzione e programmazione dei robot. Dall'altro, alcune mansioni più semplici o ripetitive rischiano di scomparire. Privacy e sicurezza dei dati Un robot in casa potrebbe raccogliere tantissime informazioni sulla nostra vita quotidiana, dalle abitudini di consumo alle conversazioni private. È fondamentale definire normative e protocolli di sicurezza che impediscano l'abuso di questi dati. Accettazione sociale Non tutti saranno entusiasti di avere un robot umanoide tra le mura domestiche. Il fattore inquietudine è reale, soprattutto quando la macchina è troppo simile a un essere umano o cerca di imitare le emozioni. Potrebbero esserci resistenze culturali o timori su come gestire la convivenza. Applicazioni reali e prospettive future Oltre all'ambiente domestico, ci sono già alcuni settori che stanno beneficiando della robotica umanoide o semi-umanoide. Assistenza sanitaria e riabilitazione In Giappone, per esempio, i robot umanoidi vengono impiegati in alcune strutture per anziani per offrire supporto nella mobilità e nella compagnia quotidiana. Educazione Robot come now vengono usati per insegnare ai bambini i primi concetti di programmazione, robotica e logica. La loro forma umanoide li rende più simpatici e avvicinabili rispetto a un semplice computer. Servizi al pubblico Pepper è stato adottato in alcuni negozi e aeroporti per dare informazioni ai clienti, aiutare nelle operazioni di check-in e offrire un pizzico di intrattenimento. Ricerca spaziale e ambienti estremi Un robot umanoide è teoricamente in grado di utilizzare gli stessi strumenti e veicoli progettati per l'essere umano. In futuro, potremmo vederli impegnati in missioni spaziali o in operazioni di salvataggio in zone pericolose per l'uomo. Le prospettive future sono enormi. Pensate, ad esempio, ai progressi continui nell'IA, sistemi di apprendimento automatico che si adattano all'utente, riconoscendo preferenze, abitudini e persino emozioni. Col tempo, la relazione tra uomo e robot potrebbe diventare sempre più naturale e intuitiva. Siamo in un momento storico in cui la fantascienza sta diventando realtà. Robot come Asimo, Pepper, Atlas, Sophia, Nao e persino il futuristico Tesla Bot Optimus ci mostrano che l'era dei robot umanoidi non è più un miraggio, ma un'evoluzione in atto. Certo, restano molte sfide tecniche, etiche e sociali da risolvere, ma le potenzialità sono immense. Dall'assistenza domestica alla compagnia per le persone fragili, dall'educazione alla ricerca in ambienti ostili. Nel giro di pochi anni, la tecnologia potrebbe renderli più accessibili e sempre più avanzati, al punto che potremmo davvero trovarci a interagire quotidianamente con esseri metallici o compositi dotati di intelligenza artificiale. Sarà una rivoluzione silenziosa, ma potenzialmente in grado di cambiare profondamente il nostro stile di vita, così come l'organizzazione del lavoro e della società. Sareste pronti ad avere un robot umanoide in casa, capace di svolgere alcune delle vostre mansioni e perfino di farvi compagnia? Oppure l'idea vi mette a disagio? Fatecelo sapere nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale.